ciao amici di napolità buona domenica a tutti sassa è sempre qui perché io vi accompagnerò fino alla prima partita del napoli ma se vi accompagnerò sempre ci sarò ogni giorno per voi per trattare un po gli argomenti sul napoli e fare questi pensieri a voce alta è importante per la prima partita sta il 10 agosto ma poi dobbiamo aspettare mercoledì 26 che c'è la conferenza stampa di antonio conte vediamo un po cosa ci dice il mister il comandante come lo chiama benito nostro abbonato e poi dobbiamo aspettare ovviamente quale sono le città parleremo un po di mercato però dei nostri vi do una notizia ma parleremo soprattutto dei nostri che potrebbero andare via e poi alla fine del video non vi muovete perché vi devo raccontare una cosa che è successa stamattina e riguarda paolo del genio non vi muovete ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti i nuovi abbonati invitare a chi passa ora su questo video ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche a lasciare un like e un commento al video in base a quelli che sono gli argomenti trattati e possiamo parlarne soprattutto mi interessa sapere la vostra ricordatevi l'app di sofascore c'è il quarkod in basso per poter scaricare questa applicazione che è completamente gratuita e ricordatevi www.napolita.it il nostro sito di notizie ufficiale dove ci sono c'è tutto c'è tutto notizie sull'italia che lunedì domani dovrà giocare contro la croazia dell'italia parliamo meglio domani perché capiamo un po le formazioni ho visto che tutti quanti stanno giochicchiando con sti numeri mentre spalletti ormai numeri li ha sdoganati però ci sta ho letto 4141 ho letto la bocciatura di scamacca però di questo ne parliamo domani mi raccomando fate tutte le procedure e anche sul sito troverete tutte le notizie anche ambito calcistico diverso sull'app trovate anche tutti gli sport proprio per essere chiaro ma partiamo da questo presupposto perché dobbiamo andare a capire quali potrebbero essere le parole di conte mercoledì nella conferenza stampa vi ricordo anche che noi la sera alle 23 ovviamente faremo una diretta dove andiamo ad esaminare tutta la conferenza stampa andiamo a prendere le parti più importanti la conferenza ci sarà alle 15 e 15 a palazzo reale al teatro di corte di palazzo reale e andiamo a vedere un po quelle che sono quelli che sono stati gli spunti che ci darà conte io sono sicuro che conoscendolo magari non dico ci risolverà la situazione di lorenzo e quara schella ma secondo me ci andrà giù duro e io spero che inizierà a dettare quella che dovrà essere la linea mediatica per gestire questo rapporto perché poi nasce un vero e proprio rapporto tra l'allenatore tra la stampa e la squadra vediamo un po non aspetto altro è importantissimo per noi capire le parole di antonio conte io poi poi sono vicino a quelle persone che sotto qualche contenuto mi hanno scritto ma quello mo se ne va non la fa la conferenza non avete comprato a nessuno diciamo penso probabilmente saranno tifusi di altre squadre perché dice non se ne va lui fa sempre così diciamo che un po di miei ragazzi un po mi non vi preoccupa io lo so che voi non riuscite a pensare che ci sia antonio conte sulla panchina del napoli però è evitate proprio di dire queste bagianate ed ecco che poi conte si dimetterà prima della conferenza scherzo ovviamente comunque al di là di questo c'è un passaggio stamattina parlavamo anzi più che parlavo io parlavano i miei splendidi abbonati e facevano questo discorso parlavano della voglia e mi facevano riflettere perché ovviamente c'era benito il nostro oggi l'ho citato due volte in questo video perché benito è uno superattivo nel gruppo degli abbonati raga parliamo di tutto di calcio a 360 gradi e ci sono degli spunti straordinari non posso citare tutti gli abbonati ma è come se lo sto facendo sono veramente preparatissime non avete idea di quanto io mi miglioro a parlare con loro è qualcosa di straordinario comunque si parlava di questo fatto della voglia io sono d'accordo dice io voglio che rimangono tutti connessi al lavoro cioè se devono stare qui scontetti scontenti meglio che se ne vanno perché secondo me la prima cosa che bisogna ricercare nei giocatori del nuovo napoli è proprio questa calciatori che sono addentrate assolutamente che hanno voglia di fare questa full immersion completa e hanno voglia di stare con di essere allenati da uno degli allenatori più importanti d'europa perché raga Antonio Conte questo è io sono netto perché non ho proprio dubbi tutti quelli che resteranno restano perché prima di tutto sono convinti del progetto quindi progetto Antonio Conte ricordiamo che è un progetto importante 2 più 1 sicuramente sarà un progetto lungo che ha bisogno di sacrificio e soprattutto di lavoro e abnegazione amma faticato questa è la cosa che tutti i calciatori devono mettersi in testa e sono quindi sicuro che tutti quelli che restano sono sono d'accordo a questo lavoro mentre quelli che se ne vanno noi li salutiamo però dobbiamo anche farci darci una risposta vuol dire che questi non erano forse pronti a fare questo lavoro pesante che Antonio Conte sicuramente metterà in campo partendo da Di Maro partendo da Castel di Sangro perché poi qui andiamo a fare il ragionamento quello che potrebbe essere sul mercato perché ci sono questi nomi Gaetano e Zanoli sembra che addirittura la proprietà sta pensando di cederli a titolo definitivo ovviamente questo lo sappiamo dopo Di Maro perché Gaetano abbiamo saputo che è anche nella lista della nuova Fiorentina di Palladino ha bisogno di trovare questo centrocampista sicuramente Palladino giocherà con questo 3-5-2 che poi cambia molto pelle perché Palladino è uno che fa calcio moderno però uno come Gaetano abbiamo saputo che fa piacere quindi potrebbe essere in orbita Fiorentina e la stessa cosa vale per Zanoli Zanoli che era uno di quelli che secondo me può piacere a Conte potrebbe adoperarlo e provarlo su quella fascia se ipotizziamo sempre questo 3-4-3-3-4-2-1 però in questo momento sembra che il Cagliari sia interessato molto al calciatore quindi toglie Gaetano e prende Zanoli vediamo poi l'ultima notizia è quella di Listrom perché sembra che in questo momento Lione e Marsiglia siano interessati al calciatore però già c'è un no secco del Napoli a Lione per questo prestito con diritto di riscatto quindi dobbiamo capire anche cosa succederà con l'Istrom ricordiamo che all'Olympique Marsiglia ci sarà De Zerbi che ha adoperato ha usato delle parole alle miele per il calciatore dice l'Uni uno dei numeri 10 in Europa molto molto forti e quindi lì dobbiamo capire cosa succede per quanto riguarda l'Europeo una parentesi prima di andarvi a parlare di quell'argomento che vi ho detto all'inizio di Paolo Del Genio di questi articoli oggi stasera si giocherà Scozia, Ungheria e Svizzera Germania si giocherà addirittura in contemporanea quindi non so in chiaro quale partita potrete vedere spero che si vedrà la Germania perché Nagelsmann sta facendo giocare in modo straordinario la sua squadra e quindi sono queste le due partite per stasera ora andiamo sull'argomento perché il mio ragionamento che va oltre anche quello che vi sto per far vedere questo è il titolo che è uscito praticamente mi sembra ieri o stamattina non mi ricordo bene il tempo però diciamo cambia poco Del Genio Spalletti è un grande allenatore ma anche un gran copione ora ovviamente se voi leggete questo titolo può sembrare che Paolo Del Genio stia criticando Spalletti dopo questo esce quest'altro titolo di tutto Napoli possiamo dire le fonti no perché tanto non fa niente noi qua veniamo a dire solo la verità il nostro titolo smaschera chi si limita al titolo Del Genio aveva elogiato Spalletti allora perché io vi ho fatto vedere queste due cose? perché voglio partire dal primo di titolo quando noi andiamo a leggere quello lì che Del Genio praticamente sembra che stia criticando Spalletti voglio portarvi a quello che secondo me è una cosa fondamentale ad oggi per andare ad arricchire la nostra cultura la prima cosa bisogna avere voglia di sapere nell'avere voglia di sapere io do sempre lo stesso consiglio non limitatevi a leggere solo i titoli perché poi perdete proprio la voglia di andare a capire in quell'articolo cosa c'è scritto io capisco anche che molti di voi che siete attirati da questi titoli clickbait perché molte volte avete visto dei titoli all'interno avete letto addirittura cose diametralmente opposte siete un po' deviati quindi tendete tutti quanti a scrivere immediatamente il commento in base a quello che è il titolo iniziale però io vi dico questa cosa perché per me è una mancanza di rispetto verso voi stessi quello di non andare ad approfondire un qualcosa che poi state per commentare perché nel secondo titolo, quello di smentita da parte di tutto Napoli ci sta proprio questa valutazione verso i fruitori, verso i clienti che vanno a leggere le notizie perché Paolo Del Genio nel suo profilo personale ha praticamente detto che ha ricevuto tantissimi insulti perché qualcuno aveva pensato, visto il titolo, che lui stava offendendo Spalletti quando invece non è vero e allora questo è il mio consiglio e poi vi vado a dire però precisamente quello che voleva dire Paolo Del Genio il mio consiglio è sempre quello di non sottovalutarvi cioè quando dovete andare a scrivere un commento a volte è capitato anche nei nostri contenuti io a volte trovo dei commenti solo dopo aver letto secondo me o il titolo o la copertina e questa cosa non è corretta né per noi che lavoriamo perché siamo qui e stiamo veramente ogni giorno a creare contenuti e né per voi stessi perché magari potete scrivere qualcosa di errato rispetto a quello che c'è nel video perché alla fine il titolo non è fuorviante perché Paolo ha detto proprio quello è il problema che però dovete andare ad approfondire questa è la chiave per aumentare la vostra cultura lo dico proprio a un consiglio personale che secondo me va anche al di là del calcio proprio in generale serve questo, serve l'approfondimento se non c'è l'approfondimento la cultura rimane lì non potrete mai migliorare e allora leggete l'interno e il corpo perché Paolo alla fine cosa diceva? diceva al di là di quelli che hanno tra virgolette l'integralismo l'idea e il modo di giocare è ben preciso come Sarri come Guardiola come metteteci chi volete voi che ne so Murigno Allegri Spalletti è uno che è bravo a prendersi un po' da tutti e allora in questo caso è un elogio che fa Paolo Del Geno a Spalletti non è un'offesa dice lui è bravo lui ha un'identità sua però poi in questa identità ci mette un po' di Guardiola un po' di Sarri un po' di Allegri un po' di Murigno anche se io lì non ci prenderei niente però era per farvi capire il discorso quindi questa è una cosa a cui ci tengo e ripeto ho adoperato io ho adoperato Paolo e quest'articolo non perché mi voglio fare pubblicità perché sto vedendo che ora il trend del momento è quello di andare a prendere qualcuno famoso per cercare di fare più app no io l'ho solo preso perché prima di tutto è la notizia del giorno ed è quasi una notizia mai vista perché non abbiamo è difficile che troviamo un sito che smentisce un articolo a parte perché c'è un'amicizia ovviamente importante tra Antonio Gaeto tra Paolo Del Geno è giusto diciamo è stato fatto perché Paolo lavora e ha lavorato tanto con chi lavora a tutto Napoli quindi ecco c'è stata questa voglia di smentita anche per l'amicizia però spero che questo possa servire a farvi cambiare proprio il modo di arrivare alle notizie anche quando noi mettiamo qualcosa e scriviamo un titolo andate a leggere dentro prima di scrivere immediatamente i commenti è importante perché poi all'interno trovate anche qualcosa di molto più interessante è un ragionamento che volevo fare raga è proprio il ragionamento di una domenica di giugno pomeriggio dove diciamo tutte le notizie sono un po' sempre le stesse perché non vi ho parlato di buongiorno e che si c'è la stessa non vi io non mi so permesso di parlare della telefonata tra Conte e Di Lorenzo perché onestamente raga la telefonata tra Conte e Di Lorenzo ve la posso dire ma io non ho io credo che lascio stare però vi dico Victor Rocca è un obiettivo del Napoli costa 40 c'è una clausola di 20 miliardi una cosa del genere però sembra che il Napoli è interessato a sto ragazzo molto molto interessante è stato acquistato dal Barcellona a valore di 40 milioni ma di questo poi ne parliamo raga ci abbiamo tempo allora io vi saluto raga importante io ho visto che non state andando a vedere molti la seconda parte dell'intervista a Marco Bellinazzo siete pazzi la prima è andata benissimo ma la seconda ho visto che qualcuno se l'è persa andatela a recuperare perché c'è il seguito se no vi perdete un disco perché io dal primo episodio poi ovviamente passo al secondo e c'è la chiusura di tutta l'intervista che è stata straordinaria quindi andatela a recuperare ragazzi ricordatevi sempre che il 26 giugno dopo la conferenza stampa di Antonio Conte la sera noi andiamo qui in diretta live l'ultima live è andata benissimo oltre 1300 collegati vi aspetto in tanti perché andiamo ad analizzare le parole di Conte che secondo me sono importantissime io vi saluto vi auguro una buona domenica un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre Forza Napoli ciao 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 ciao